E allora Barbara adesso cambiamo argomento, ci guardiamo insieme all'approfondimento curato dal nostro Nico Centurame perché è stata presentata un'importantissima iniziativa all'interno del consorzio BIM Vomano Tordino proprio una sala relax per i pazienti oncologici dell'ospedale Mazzini di Teramo un progetto ovviamente portato avanti in stretta sinergia con la ASLE È stato presentato presso la sala del BIM a Teramo il progetto di raccolta fondi dell'associazione Morena una farfalla per sempre TS di Bellante che prevede l'installazione di una sala relax per i pazienti del reparto di oncologia dell'ospedale Mazzini di Teramo e per i loro familiari È un'iniziativa importante perché viene fatta in un reparto dove il paziente si trova in una fase critica della propria vita però questo spazio che verrà realizzato lo aiuta a lottare, ad essere più distaccato dalla propria condizione di salute in uno spazio ludico appunto dove può leggere, può sentire musica, dialogare con i propri familiari al di fuori appunto di un... come se fosse fuori, come se si trovasse fuori una struttura di cura Ecco, per noi è un... dobbiamo ringraziare molto con l'associazione Morena una farfalla per sempre il BIM sensibile a questo tipo di iniziative La sala sarà attrezzata con area lettura, televisore, saletta per i colloqui per garantire un'area accogliente e riservata per i pazienti e i loro familiari separata dallo spazio dedicato alle cure Sì, questo obiettivo nello specifico è quello di creare uno spazio di cura più adeguato con una sala relax che verrà realizzata all'interno della degenza dell'oncologia medica di Teramo Abbiamo intenzione di fare in modo che lì i pazienti possano ascoltare musica possano leggere un buon libro e possano accogliere in maniera un po' più aperta in uno spazio più aperto i loro familiari Questo è da tempo nei reparti di oncologia un po' una criticità perché l'accesso non può essere mai troppo libero per una serie di motivi sanitari e quindi avere questo spazio costruito per loro riteniamo che possa essere uno dei tanti tasselli che servono a migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti e i loro percorsi Si rafforza dunque la collaborazione tra l'Asle di Teramo e l'Associazione Moreno Una Farfalla Per Sempre che nel corso del tempo ha donato circa 100.000 euro tra oncologia, radioterapia ed hospice dell'ospedale Mazzini oltre ad aver messo in campo tantissime altre iniziative benefiche In rappresentanza dell'associazione sono intervenute la psicologa Lisa Reginelli e la nutrizionista Gabriella Scarpone Il ruolo dell'alimentazione è fondamentale e forse alle volte anche poco considerato L'alimentazione è fondamentale sia nella fase della prevenzione ma anche soprattutto poi nella fase della malattia Studiare un piano nutrizionale sulla persona che sta facendo determinate cure e quindi sta assumendo determinati farmaci può essere fondamentale per dare aiuto e sostegno proprio alle cure ed evitare quello che è la cosa che spesso troviamo nei pazienti che purtroppo fanno la chemio che si sottopongono alle cure che è la sorcopenia quindi la perdita fondamentalmente della massa muscolare quindi intervenire per giusto tempo può allungare anche nei casi più gravi di mesi magari la sopravvivenza del paziente In questi momenti di vita il supporto psicologico rappresenta proprio il raccordo tra quello che è il mondo della persona, la famiglia e il mondo della cura che arriva in ospedale attraverso i medici è un momento delicatissimo quindi tutto quello che è accoglienza, punto di riferimento, porto sicuro anche per quelle piccole grandi domande che poi effettivamente insorgono la notte durante il paziente nei momenti di angoscia, quelle domande inconfessabili tra virgolette che il paziente si trova in qualche modo a sperimentare Il mondo ospedaliero è sempre molto marginale rispetto alla vita fuori in questi momenti i ricoveri spesso non sono proprio brevi quindi offrire alla famiglia un posto sicuro, accogliente dove poter dialogare nella privacy dove potersi regalare anche un momento di convivialità spensierato anche un momento che non è soltanto legato all'aspetto medico ma anche all'utico ricreativo un ascolto della musica, giocare a carte con il familiare insomma sono attimi importanti che vanno curati all'essenza È fondamentale perché oltre a darci un sostegno importante perché non dimentichiamoci delle diverse donazioni che questa associazione ha fatto per tutto il dipartimento oncologico, dei computer, anche ad Arredi che ha messo a disposizione e questo rappresenta anche uno stimolo per noi per far sempre meglio per dare sempre un apporto a queste strutture che necessitano sempre più di sentirsi vicino sia la parte sociale che la parte dell'azienda e questa è la parte dell'azienda Grazie a tutti.